L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulconologia, che all'Aquila sede in pieno centro storico nei pressi di Piazza Duomo, non lascerà la città dell'Aquila. Le notizie degli ultimi giorni in effetti che avevano parlato di una paventata chiusura secondo l'INGV stesso sono prive di fondamento. Ci sarà per ora soltanto uno spostamento negli uffici di Porta Napoli, poiché la ricostruzione del centro storico rende difficoltoso l'accesso nell'attuale sede da parte del personale. L'INGV Aquilano è una sede storica, nata nel 1958 in occasione dell'anno geofisico internazionale attorno all'osservatorio geomagnetico di Preturo, il primo in Italia. Un tema comunque che resta ancora caldo nonostante le rassicurazioni e che ha sollevato la levata di scudi dei pentastellati. Ora l'argomento approderà comunque in consiglio regionale dal momento che il consigliere del Movimento a 5 Stelle Riccardo Mercante presenterà un'interrogazione al presidente della regione, Luciano D'Alfonso. La sede dell'istituto, ha ricordato Mercante, si era sviluppata in realtà grazie al progetto Abruzzo con un accordo di programma tra il MIUR e la regione stessa. Una sede fondamentale questa in un territorio come quello aquilano dove ogni giorno ricercatori, ingegneri, geologi e fisici svolgono attività di ricerca nel campo della sismologia applicata con contratti a tempo determinato. L'INGV, stando all'indiscrezione, è ancora in attesa della formalizzazione di un nuovo rapporto di collaborazione con la regione Abruzzo. Senza questo, ovviamente, si andrà necessariamente incontro ad una significativa riduzione delle attività di ricerca e probabilmente anche ad una riduzione dell'organico. Per questo, Mercante ritiene opportuno intervenire in tempo affinché non si piangano poi altre vittime. Primo K.O. per il città di Castello della gestione Silvano Fiorucci con l'Aquila che incassa tre lingotti d'oro grazie al gol in extra time di Bartoccini. Inutili ai fini del risultato gli sforzi dei padroni di casa per difendere il pareggio. Alla fine i tre punti se li aggiudica la squadra di Massimo Morgia. Primo tempo di predominio aquilano. Con il passare dei minuti la squadra di Morgia guadagna terreno, alza il baricentro e crea pericoli ad un città di Castello che cerca di difendersi come può. Al diciassettesimo è Minincleri a creare scompiglio dalle parti di Simone con un tiro insidioso ma il portierino del città di Castello evita il peggio. Al ventiduesimo altro tentativo di Zane su calcio di punizione ma il numero 10, Rosso Blu, non c'entra il bersaglio. Al ventiquattresimo tiro cross di Sieno rispinto con i pugni da Simone in uscita di sicurezza. Ventiseiesimo ancora l'Aquila in attacco. Appoggio di Dictevicius per Russo che tenta il pallonetto ma palla che si spegne oltre la traversa. Si riparte nel corso della ripresa al quinto minuto con il città di Castello pericoloso in zona gol. Con Mancinelli che recupera palla serve l'assist per Capitan Missaglia che però non riesce a concretizzare. Passa un minuto e ancora città di Castello in avanti con Missaglia che ricambia la cortesia dell'azione precedente con Mancinelli che non sfrutta l'occasione propizia. Al decimo minuto la risposta della formazione aquilana sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ganci. È il solito Minincleri a tentare la battuta ma il suo tiro non crea gli effetti sperati. Al quattordicesimo traversone dalla destra di Missaglia uscita dai pali di Farroni che respinge palla ma al tempo stesso va a scontrarsi con il compagno Pepe con entrambi che rimangono a terra per qualche secondo a causa del contatto fortuito fra i due. Al ventiseiesimo brividi per il città di Castello con Russo che colpisce il palo ma l'assistente dell'arbitro Rainone Di Nola aveva ravvisato una posizione irregolare dell'attaccante rosso-blu. Al quarantatresimo ci riprova Minincleri ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Il città di Castello difende con le unghie e con i denti lo 0-0 fino al novantunesimo quando un'incornata vincente di Bartoccini su cross al bacio di Russo consente alla squadra di Massimo Morgia di passare alla cassa ed ottenere l'intera posta in palio. Si è difeso con i denti avendo tre palle gol nitide all'inizio del secondo tempo che cambiava la musica non cambiava la qualità dell'Aquila perché è una squadra che a livello di qualità individuale è una grossissima squadra però se ben mi ricordo non c'è stato un tiro indirizzato nella zona del portiere un tiro in tutta la gara quindi la squadra sotto l'aspetto difensivo ha fatto una partita perfetta equilibrata, tatticamente quindi cominciano a sapere stare in campo chiaramente piano piano devi riuscire anche a fare qualcosina di più in fase offensiva. Io speravamo sempre il pallino del gioco l'abbiamo sempre avuto in mano noi abbiamo cercato avevo chiesto pazienza perché in un campo bellissimo come questo ma anche molto stretto con dieci persone dietro la linea della palla non è facile giocare dovevamo avere pazienza potevamo rischiare di prendere qualche infilata non l'abbiamo presa se non nei primi minuti del secondo tempo abbiamo concesso le uniche opportunità poi abbiamo sempre tenuto in mano la partita che non era facile sbloccare. Prosegue la maledizione dell'Avezzano con le formazioni sarde con la terza sconfitta consecutiva che fa suonare l'allarme in casa marsicana dopo l'ottimo avvio di campionato e così dopo il Muravera e la Nurese anche il Latte Dolce Sassari conquista l'intera posta al cospetto dei marsicani per l'occasione oggi in maglia arancione apparsi piuttosto spenti ma soprattutto spuntati una cosciente delusione per i tifosi avezzanesi che pure avevano sperato in un riscatto dei propri Beniamini che però non è arrivato al settimo il primo acuto locale di Aquino che è servito in aria tira però debolmente fra le braccia di Garau passa un minuto e tocca a Padovani con un pallonetto far correre un brivido alla difesa sassarese il canovaccio sembra ben delineato dei primi minuti con la squadra di Pino Tortora a fare la gara durerà però poco i marsicani in campo con una inedita maglia arancione spingono senza però scoprirsi al decimo però si vedono gli ospiti per la prima volta con un tiro insidioso di Palmas che costringe Lewandowski a salvare in calcio d'angolo i marsicani spingono ma al ventiduesimo arriva il vantaggio ospite grazie a Del Rio che di testa sugli sviluppi di un angolo approfitta di un'uscita avventurosa dell'estremo marsicano mettendo il pallone in rete passa qualche attimo e c'è un grosso spavento con l'infortunio dell'attaccante ospite Luca Scogliamiglio che resta a terra per un paio di minuti prima di essere caricato su una barella e trasportato all'ospedale di Avezzano per una sospetta rottura del gomito dopo uno stop la gara riprende con l'ingresso in campo di Galante al posto dello sfortunato compagno la formazione ospite non si accontenta e al 34esimo con un euro goal in rovesciata di Palmas trova il 2-0 dagli spalti piove qualche fischio all'indirizzo dell'Avezzano che ha il merito di non mollare trovando così al 37esimo la rete del 2-1 grazie a Mena che di testa sugli sviluppi di un corner salta quasi indisturbato mettendo alle spalle dell'incolpevole Garau gara riaperta con i padroni di casa che iniziano a stringere da sedio l'area di rigore ospite i biancazzurri isolani con un po' di difficoltà riescono a reggere l'urto anche se al cinquantesimo Mena ancora di testa chiama Garau al miracolo in calcio d'angolo prima del doppio fischio di D'Angelo di Ascoli che manda le due squadre negli spogliatoi sul 2-1 in favore dei sassaresi nella ripresa inizio shock per l'Avezzano che al primo minuto subisce la terza rete ancora ad opera di Palmas con Lewandowski beffato anche dalla deviazione di un compagno per gli arancioni un colpo durissimo al cospetto di un latte dolce bravo a chiudersi al tredicesimo ci prova per l'Avezzano Aquino che però allarga troppo la mira spedendo il pallone fuori alla mezz'ora viene poi allontanato dalla panchina dell'Avezzano per proteste il tecnico marsicano Pino Tortora con i minuti che scorrono i veloci e con gli ospiti che senza strafare riescono a portare a casa i tre punti regalando all'Avezzano un altro pomeriggio da dimenticare e al novanturesimo squadra marsicana sotto la nord a colloquio con i tifosi che sperano in un pronto riscatto domenica prossima Sant'Odoro ancora contro una formazione sarda il successo quello che è nel calcio è meraviglioso c'è l'imprevisto l'imponderabile il calcio è bello per questo bisogna accettarlo sia quando le cose sono a favore tuo sia quando sono contro vedere quello che è successo oggi non capita tutti i giorni dei gol incredibili prodezze impressionanti noi a fronte di 30-40 situazioni da rete siamo riusciti soltanto a farne uno il calcio è fatto di queste cose bisogna accettare e andare avanti ma io credo che sto 3-1 venuto dopo due minuti abbia un pochino moralmente dato fastidio ai ragazzi noi ci sono veramente tre punti importanti perché la partita è stata dura noi comunque siamo anche un po' in una situazione di formazione un po' d'emergenza perché abbiamo perso Andrea Usai abbiamo Luca Ruggio Carlo Piga Francesco Panai e Mattia Spano sono quattro titolari importanti quindi oggi ci siamo venuti anche un pochino rimaneggiati però con grande organizzazione avevamo preparato la squadra la partita in modo molto meticoloso sapevamo a che cosa andavamo incontro e devo dire bravi ragazzi insomma è stata meritata però non è stata facile assolutamente l'Avezzano è una squadra importante il vero successo è quello degli appassionati di pallovare del capoluogo e del suo Interland che in 2500 hanno assistito al primo storico derby tra l'Aquila e la Gran Sasso Rugby numeri da capogiro per l'eccellenza massima espressione del rugby nazionale figuriamoci per la Serie A dove militano Nero Verdi e Grigio Rossi al termine della gara il tabellino segna 26 a 20 per l'Aquila che si conferma leader del campionato e pretendente per il salto di categoria per la Gran Sasso grande prova sia sotto il profilo tecnico-tattico che di orgoglio passando alla cronaca dove i primi due giri di orologio i Nero Verdi si portano avanti con un calcio piazzato di Filippo Di Marco la giovane apertura aquilana non preciso al piede sbaglia un piazzato 5 minuti più tardi è al tredicesimo che l'Aquila segna la prima delle sue tre mete la terza linea Dario Bascia buca la difesa avversaria e viene fermato a pochi centimetri dalla linea di meta ne nasce un capovolgimento sul lato opposto che porta in meta Francesco Giorgini la gara è equilibrata e corretta nessun cartellino giallo fischiato negli 80 minuti e al venticinquesimo è l'apertura della Gran Sasto Riccardo Lorenzetti a affintare a 5 metri e schiacciare sotto i pali tre minuti più tardi Di Marco su calcio di punizione colpisce il palo Niccolò Speranza raccoglie il pallone e schiaccia in meta ma l'arbitro annulla dalla mischia che ne scaturisce il pack nero-verde spinge e il flanker Carlo Cerasoli marca la terza mezza dei padroni di casa 5 minuti dopo è ancora Giorgini dopo una veloce azione palla alla mano che porta sull'allungo più importante nero-verdi 23 a 10 il primo tempo però termina con la meta della Gran Sasso che si impone in mischia aperta schiaccia oltre la linea con Domenico Guerriero e va negli spogliatoi sotto al break 23 a 17 nella ripresa il gioco è frammentato l'Aquila soffre gli avanti grigiorossi ma migliora nelle tush non riesce tuttavia a concretizzare i tanti minuti passati nella 22 avversaria il punteggio si sblocca solo a 4 minuti dalla fine grazie ad un piazzato centrato da Gianmarco Cialente entrato nella ripresa al posto di Di Marco gli risponde al piede l'estremo sudafricano Jess Dutoua due minuti più tardi per il 26 a 20 finale che vale il punto di bonus difensivo per la Gran Sasso Regmi grazie a tutti 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 grazie a tutti